2015 con inizio alle 9.30. Porta, Portas, Rosato, Rossomando, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Venitelli e Vignali sono in missione a decorrere alla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 102, come risulta l'elenco depositato presso la Presidenza e sarà pubblicato l'allegato a resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno rega il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 3386, conversione in legge con modificazione del decreto legge 30 settembre 2015 numero 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica. Ricordo che nella seduta dell'11 novembre si è conclusa la discussione in generale, il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. Le commissioni affari costituzionali bilanciano espressi prescritti i pareri che sono in distribuzione. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti il deputato Daniele Pesco. Prego. Grazie, Presidente. Quindi ci risiamo. Riparliamo ancora una volta di voluntary disclosure in quest'Aula. Se ne era parlato fin dall'inizio, solo in commissione, al primo giro, quando c'era ancora il Governo Letta. In quel caso si trattava di un decreto legge, ma che poi è andato nell'oblio, ma non per tanto tempo, perché poi è subito stato preso in mano tramite un disegno di legge. Un po' come se il Governo volesse passare la palla direttamente al Parlamento e intervenire e decidere su una cosa del genere. E così è stato. I partiti di maggioranza hanno preso al volo questa palla e praticamente poco per volta l'hanno portata fino a questo punto. A che punto siamo? Siamo in un punto dove la voluntary disclosure, costruita mese per mese, adesso ha bisogno di un approccio.